Buongiorno, il mio nome è Cary DeBoll. Sono stato inviato in Italia per sondare le opinioni di 16 esperti locali sugli Extreme Dimon di Geometry Dash. Nonostante non sappia una parola di italiano, sono riuscito a intervistarli tutti, e tra poco vedrete i risultati. I voti sono stati assegnati dai 16 esperti in modo estremamente rigoroso. Ognuno ha rigorosamente fatto il cacchio che voleva, ma tendenzialmente si sono concentrati più su valutare le decorazioni che il gameplay. Bando alle ciance e alle palle, ecco a voi la top 50 italiana degli Extreme Dimon. Ognuno ha rigorosamente fatto il cacchio che voleva, ecco a voi, 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 ecco a voi. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.